L'ultima del convegno è una condizionata per quattro anni non vincitori di 5.000 euro in carriera Deisis del Circeo, Desdemona, Denis, DCAOP, Donatello VF, Dancergar, Diego Dorr, seconda fila Diana Truppo e Dreized Wild Non corre Dankoff Prende forma l'allineamento, ha imboccato il rettilineo Sono partiti con il numero 3 di Denis che prova a scavalcare Desdemona Senza riuscirci c'è l'errore di Donatello VF ed anche quello del 4 di DCAOP Se ne vanno i 200 di gara da parte di Desdemona e Sabato di Vincenzo in 15.30 A tabellone anche Donatello VF, all'esterno Dreized Wild che prova ad andare su Desdemona all'altezza del paletto dei 400 in 33 Desdemona e Dreized Wild alle prese, insiste Dreized Wild su Desdemona sembra poter rilevare al comando l'allieva di Sabato di Vincenzo al paletto dei 600 in 45.3 La cosa ancora non avviene, si impegna Gaetano Di Nardo in sediolo a Dreized Wild per scavalcare Desdemona alla fine ci riesce poco prima del paletto degli 800 metri di gara In terza posizione Denis precede Desis del Circeo e Dancer Gar e in quest'ordine i cavalli affrontano il primo giro che Dreized Wild passa in 15.3 Dreized in avanti si scopre Desis del Circeo dalla quarta posizione che prova ad aggirare Denis c'è la mezza ruota di Desdemona in seconda posizione che si guarda a destra per non farsi coprire da Desis del Circeo sceglie la corsia interna Dancer Gar in coda al drappello Diego Dor Passaggio del paletto dei 600 finali con Dreized Wild in avanti 15.3 la frazione di là Desis del Circeo si muove in maniera più convinta in terza ruota per aggirare Desdemona che non persevera insiste Desis del Circeo che sembra poter già passare al paletto del Miglio in 2.2 Desis del Circeo in vantaggio su Dreized Wild e Diego Dor non ne ha più Desdemona dalle retrovie prova a fare l'arrivo Dancer Gar nel frattempo Desis del Circeo in chiarissimo vantaggio ha chiuso la partita e si afferma nel più facile dei modi con Vincenzo Gallo in sediolo al secondo Dancer Gar al terzo Diego Dor io 2.32.3 sul mio cronometro da start a start Desis del Circeo i colori di Giuseppe Cardinale Vitale Matter al training Vincenzo Gallo in sediolo al figlio di Majesticson che si afferma all'ultima del convegno 1.78 l'ordine d'arrivo ufficioso un grazie agli appassionati che ci hanno seguito una cordiale buonasera a tutti da parte di Alex Guadagno l'appuntamento è per giovedì 6 aprile con inizio alle ore 14 grazie buonasera ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti